Consigli comunali facciamo partecipare la cittadinanza e se qualcuno di sinistra porta un documento porta una soluzione che è condivisibile, noi l'appoggiamo perché noi quello che conta è la soluzione dei problemi. Quindi prima il collega diceva che in Francia o all'estero in generale c'è questa immagine del movimento che può passare per il pericoloso per la democrazia, fascista e tutto quanto, sei stupita di questo? Io non mi stupisco dello stravolgimento del pensiero del movimento, anche se noi in effetti siamo emersivi, nel senso che vogliamo stravolgere questa politica che c'è, è distante dai cittadini, non gli interessa quello che pensa il popolo, non gli interessa più, allora in questo senso ci siamo rivoluzionari e forse siamo anche emersivi, ma forse sono loro che sono troppo reazionari, non lo so. Non, l'image che abbiamo a l'estranger ne sorprende nulla perché effettivamente noi vogliamo completamente cambiare il sistema, perché è un sistema che non è più progetto di tutti gli altri, e quindi ci siamo rivoluzionari o ci siamo troppo reazionari? Parfoi, parfois, on voit M. Grillo alla televisione, chi fa dei meeting, chi si mette in colere, chi dice dei gros mots, chi vuole, come on dì in francese, renverser la table, est-ce che ça, parfois, ça ne può pas un po' effrayer les gens? Quindi si mette, spesso all'entieri, Grillo, nei giornali, nelle televisione, quando fa i comizi, che è molto arrabbiato, che dice parolace, e come si dice in francese, vorrebbe rovesciare il tavolo, est-ce che ça peut faire peur aux électeurs, aux journalistes? E secondo te, può spaventare gli elettori o i journalisti, per esempio? No, secondo me no, perché il popolo è stanco quanto siamo stanchi noi, se le cose fossero andate bene in Italia, se i politici avessero fatto il loro lavoro, avessero rispettato la delega che gli abbiamo dato, noi non saremmo qui a fare questi riscorsi, e non saremmo nelle piazze a dire che vogliamo cambiare questo sistema, questo sistema ci ha trattato, e questo sistema la deve pagare, se la pagherà, la pagherà a breve secondo me, e poi un'altra cosa volevo dire su, va bene, ok? altrimenti non mi ricordo più tutto e quindi, il problema è che gli politici che hanno dato il lavoro durante dei anni non hanno rispettato il loro engagamento, e c'è per questo che siamo qui, in le places, in le marchio, parliamo con le persone per cambiare il sistema, quindi se la politica avessero fatto il suo lavoro, non saremmo qui oggi, e se siamo qui, c'è perché la politica ci ha trahi e di tutte le persone, le politici tradizionali devono le pagher, e il sono dei gens per le pagher. Volevo dire riguardo a quello che mi avete chiesto prima, se siamo di destra o di sinistra. Uno dei nostri motti è che nessuno deve rimanere indietro. Noi vediamo l'Europa come un arricchimento, non come un impoverimento. E non ci interessa sapere se gli altri etichettano questo di destra o di sinistra. Noi vogliamo portare avanti le nostre idee e pensiamo che siano male. Quindi vorremmo alla domanda se veniamo di destra o di destra o di destra. Il nostro obiettivo è che nessuno non resta abandone senza nessuno. Quindi l'obiettivo è... L'Europa deve essere un rinuncino e non un impoverimento. E noi il nostro obiettivo è di portare le idee delle persone in Europa. Questo sarà la mia ultima domanda. D'abord, io vi ringrazio di aver raccontato a mio micro. Grazie di nuovo per aver risposto. Questa sarà l'ultima domanda che ci farà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ringrazio di aver risposto oggi, perché spesso volentieri si sa che le media e il movimento non hanno un grande rapporto, insomma. Quindi secondo te i giornalisti e le media fanno parte di quel sistema? E se i padroni dei giornali, dei padroni dei network, sono anche gli stessi che muovono la politica, non possiamo aspettare che ci siano sociali dei nostri. Ed è anche per questo che è l'accusa. In un certo modo, perché veniamo trasmessi in un certo modo. Quindi sono io che mi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.